Barretto della Soto, Sopo, Prone A guadagnè chi finisce un stuzzopone Dalle si picche meglio il sottamento E da lontano penso a tutto quando Barretto giù si bella quando chiamo A che non è buco corsa sale noi Se ferma la puristonezza Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti questa sera Iniziamo subito la nostra manifestazione Che ha per titolo 28 luglio 2006 28 luglio 2007 A un anno dalla firma del documento dei sindaci Vorrei innanzitutto salutare gli ospiti Il senatore Filomeno Biagio Tatò Prego senatore Il consigliere provinciale della provincia madre di Bari Dino Maffione Il consigliere di Forza Italia Marcello Lanotte Altri ospiti c'è il consigliere Carlo Di Bello Prego Presidente di Alleanza Nazionale Avvocato Priano Prego Presidente del Udc Antonio Comitangelo Presidente dell'Italia dei Valori Avvocato Costantino Palmitessa Presidente regionale del partito per il Sud Ezio Spina Il presidente della sezione di Barletta e della nuova provincia dei non vedenti Peppino Chiumeo Segretario provinciale di rifondazione democrazia cristiana Antonio Lattanzio Per la democrazia cristiana è presente il responsabile Arturo Gambardella Un doveroso ringraziamento va a quanti consentono a questo comitato di lotta non solo di rimanere in vita Lo affermiamo con grande orgoglio di presentare un bilancio al 28 luglio 2007, cioè oggi, in assoluto pareggio Per motivi di privacy cito solo i cognomi dei nostri concittadini destinatari degli oderni ringraziamenti Oltre chiaramente ai componenti il direttivo del comitato e dei singoli nostri affiliati Boracino, Calò, Fagella, Lamonaca, Maffione, Rutigliano, Stasi, Prascina, Tatò, Todisco, Tuputi, Tuputi ancora, Zingrillo 28 luglio 2006, 28 luglio 2007 Dal documento di condanna della città di Barletta Firmato dai nove sindaci della provincia di Barletta Alla fiduciosa attesa dei cittadini della valle dell'Ofanto Nelle superiori istituzioni Un anno fa Da nove indaci di questo territorio provinciale Veniva siglato per la dislocazione degli uffici periferici dello Stato Un documento truffa Un documento contro natura In danno della città di Barletta Vediamo perché Si prevedeva in quel documento La realizzazione di una nuova città La cosiddetta Cittadella degli uffici Definita dal governo Prodi Nella persona del sottosegretario di Stato All'interno Francesco Bonato La Brasilia Della sesta provincia pugliese Fissando al 15 settembre 2006 La data ultima Per la presentazione del relativo progetto Affidato all'ingegner Nicola Maffei Sindaco di Barletta Città definita Capofila Fra i tre capoluoghi Ed ecco La truffa Primo Nell'emore della costruzione della nuova città Provvisoriamente Provvisoriamente E quindi Per sempre Si dislocava Altrove Nel documento L'ufficio territoriale Del governo Alias La prefettura Il vero simbolo Della nuova provincia Primo firmatario Non ancora Nella pienezza Del proprio mandato Di tal sciagurato documento Ahimè Il sindaco di Barletta Ingegner Nicola Maffei Due Si prevedeva Di assegnare a Barletta Presidenza Giunta Consiglio provinciale Quando la legge 148 del 2004 Rinvia Rinviava Tali assegnazioni Al primo Consiglio Provinciale E quindi Dopo il varo Dello statuto Provinciale Partia Per